eccoci qua puntata 8 parliamo dell'espressionismo strato americano da questa e per le prossime due puntate parleremo proprio di questo grande fenomeno dell'arte strata che è iniziato negli anni 40 del novecento sia negli stati uniti sia in europa ma di fatto non si è mai concluso tant'è vero che un fenomeno così vasto che diciamo noi indicheremo alcuni degli degli protagonisti che appunto nelle due sponde dell'oceano in qualche modo hanno rappresentato questo movimento ma che arriva poi fino a oggi quindi è uno dei grandi temi dell'arte contemporanea il termine espressionismo astratto america espressionismo astratto vero e proprio fu fu utilizzato per la prima volta da alfred bar che era un critico proprio per definire un acquarello di kandinsky tanto per cambiare non facciamo che ritornare lì perché è uno dei grandi padri dobbiamo dire che però il termine torna in auge nel 46 ed è ha poi ha goduto il grandissimo successo fino a oggi in particolare questa corrente che si sviluppa negli stati uniti è legata anche a un fenomeno politico dopo la crisi del 29 con il new deal di roosevelt sarà roosevelt stesso tra i vari provvedimenti per lanciare l'economia degli stati uniti a investire moltissimo anche nell'arte e poi invece dopo la fine della guerra nel 46 e con l'inizio della guerra fredda addirittura intervenne negli stati uniti la cia eh facendo dei programmi a sostegno a sostegno dell'arte astratta come linguaggio visivo da mettere in contrapposizione rispetto invece al realismo sovietico quindi diciamo l'arte diventa politica in realtà l'arte è sempre politica anche se noi dobbiamo dire che quando intendiamo l'arte politica non vogliamo intendere che gli artisti lavorano in quel modo perché siano stati costretti ma è anche vero che l'arte spesso viene assorbita dalla politica in un certo momento storico noi per esempio lo vediamo oggi moltissimo con la street art che è un movimento che è nato nel 78 spontaneamente nei bassi fondi delle città statunitensi e che invece oggi viene utilizzata costantemente con bandi e fondi pubblici per riqualificare delle aree e delle zone a volte anche in maniera un po' discutibile è tutto un altro discorso però in realtà appunto l'uso dell'arte anche come testimone di un momento politico socio politico culturale è una cosa sempre estremamente diffusa ma torniamo a noi torniamo cioè a parlare dell'espressionismo astratto e questa l'idea dell'espressionismo astratto fondamentalmente è quella di fondere l'insegnamento di Pollock quindi quello che riguardava proprio l'emotività la spiritualità del colore con la potenza dell'espressionismo figurativo ancora della prima avanguardia europea quindi ritrovare un modo per liberare l'arte dalla forma riconoscibile senza però perdere la potenza del segno e del colore ognuno degli artisti lo fa a modo proprio è molto importante in tutto questo contesto compreso ciò che vedremo nelle prossime due puntate è proprio l'aspetto gestuale dell'artista cioè il modo in cui l'artista interviene quel tempo fisico di intervento sulla superficie sulla quale lavora fa parte dell'opera d'arte deve essere in esso compresa e come si fa si fa per esempio attraverso la fotografia non è un caso guardiamo la storia dell'arte di questa bella raccolta di repubblica che per esempio noi abbiamo fotografie di lucio fontana al lavoro ne parleremo poi anche in una prossima puntata di fontana abbiamo fotografie di jackson pollock al lavoro e molto spesso i fotografi che hanno immortalato questi artisti al lavoro sono a loro volta pure fotografi importanti dei professionisti il cui lavoro fotografico diventa quasi un complemento narrativo dell'opera d'arte stessa e vengono queste fotografie studiate non solo come documenti ma come opere d'arte in se stesse relative all'opera principale che l'artista stava eseguendo c'è quindi una relazione molto importante tra la fotografia e l'opera ma poi anche tra il video e l'opera è necessario registrare è necessario ricordare l'azione artistica perché l'azione il tempo cioè in cui l'artista gocciola il colore lo stende buca le tele qualunque azione egli faccia quel tempo è un tempo fondamentale che fa parte dell'opera stessa è la vita stessa dell'artista allora spostiamoci e parliamo invece di Mark Rochko che è senza dubbio uno dei più affascinanti artisti dell'espressionismo astratto e là dove il gesto furioso di Pollock ci appunto fa danzare insieme a lui intorno alla tela come vedete Rochko invece è misuratissimo al punto tale di appunto sembrare quasi completamente piatti le sue superfici questo colore dato a grandi pennellate liquide dove proprio il gesto del dipingere viene invece completamente cancellato è in realtà il segno di un automatismo dell'arte Rochko apparteneva a una questo dipinto che vi stavo mostrando è del 49 sempre quindi come vedete siamo sempre lì Rochko apparteneva a una famiglia immigrata di ebrei lettoni e aveva studiato nella scuola talmudica e quindi aveva diciamo una formazione molto rigida dal punto di vista religioso ed era senza dubbio un grande spiritualista e quindi di Kandinsky va a cercare proprio gli aspetti della spiritualità del colore e nello stesso tempo cercava attraverso queste grandi campiture piatte di dare per l'appunto una vibrazione interna del colore che fosse una vibrazione spirituale dove l'artista diventa quasi come un come possiamo dire semplicemente un mezzo di trasferimento di una ispirazione divina sulla tela c'è proprio molto misticismo nelle opere di Rochko anche lui purtroppo soffriva di depressione ed è morto suicida anziano tra l'altro perché aveva 66 67 anni quando si è suicidato ed è sempre una cosa molto triste perché si vede che è proprio un male di vivere che uno si porta dietro tutta la vita normalmente fa più parte di un'età più giovane no? però ha lasciato queste grandi ed emozionanti tele che appartengono a una modalità di intendere e di agire nell'arte che viene chiamata color field cioè pittura a campiture per l'appunto dove come potete vedere ogni singolo segno è misurato e guardando dal vivo questi quadri che sono grandissimi noi abbiamo proprio la sensazione del colore che passa dentro l'altro colore sono dipinti che non si possono assolutamente spiegare quelli di Rochko però vi garantisco che osservare dal vivo queste grandi tele restando davanti fermi per un po assorti in meditazione che quello che lui ci chiede ci fa quasi precipitare dentro la tela ci ha un senso di vertigine che proprio è proprio il senso mistico diciamo così di essere portati all'interno di una cosmogonia di qualcosa di più grande dell'uomo ed era proprio quello che Rochko voleva quindi come vedete nella New York School in realtà esistono tanti artisti diversi che operano in maniere diversissime la storia non finisce negli Stati Uniti perché esattamente negli stessi anni in Europa nasce un altro un altro modo di interpretare l'astrattismo per l'appunto post bellico e ne parleremo nella prossima puntata grazie Grazie a tutti